Questo è un lavoro di ricerca che ho cominciato poco tempo fa, soltanto come strumento per fotografare l'iPhone, il telefonino, che è un utilizzo quotidiano per me e mi ha consentito di fotografare in modo molto istintivo qualsiasi soggetto che mi piacesse. La tecnica utilizzata è molto semplice, ho utilizzato delle applicazioni che mi consentono di lavorare alle economie e ho stampato le mie immagini su alluminio che rendono cangiante la resa cromatica dell'opera.